Sono trascorsi 30 giorni e nonostante ci fosse anche una pressione da parte degli ambulanti, dall'associazione degli ambulanti, a vedere risolto il problema del mercato del giovedì, fino ad oggi non abbiamo avuto nessuna convocazione. È passato un mese e siamo stati costretti a chiedere al prefetto di adottare provvedimenti per rimuovere questa stasi. C'è questa mancanza di volontà di confrontarsi in consiglio comunale, che mi pare sia l'assemblea dei cittadini, dove le cose importanti vanno discusse. Non abbiamo chiesto di discutere un argomento banale, ma credo che parlare del commercio oggi a sale, il commercio ambulante in particolare, con proteste in atto degli ambulanti, con necessità di rivitalizzare il mercato del giovedì, che purtroppo vive una situazione di grande precarietà, è diminuito di molto l'afflusso, non c'è più il commercio di una volta, e gli stessi commercianti guadagnano pochissimo, se non nulla. Di fronte a questa difficoltà, alla mancanza di sicurezza, qualche settimana fa un ambulante è stato investito sotto la sua baracca, persone che cadono, quindi anche dal punto di vista della sicurezza c'è qualche difficoltà. L'Avvocato Poladino, sono lontani i tempi in cui evidentemente in un anno un consiglio comunale si riuniva addirittura per 15-20 volte. Cos'è? Sta cambiando completamente la politica? Ma è cambiata la politica, si vede, il livello di democrazia è sceso notevolmente, lo dico con molta franchezza. Io ho vissuto l'esperienza sia della prima, cosiddetta prima repubblica, che in seconda repubblica. Questo era un po' in tutti i comuni? Sì, in tutto, questo è generale. Quando ero sindaco io facevamo dai 15 ai 20 consigli comunali all'anno. Mi pare che era quello il momento in cui i consiglieri comunali innanzitutto potevano contare, potevano decidere. Oggi tutto si riduce al sindaco e a pochi intimi. E allora non è possibile. Bisogna che ci sia rispetto delle assemblee, specialmente quando si tratta di argomenti, come quello del commercio, che è vitale. Sala vive di mille licenze commerciali. In un momento in cui il pubblico si ritrae sempre di più, e sappiamo, i dipendenti dell'Enelson si sono ridotti, i dipendenti della SIP si sono ridotti, e gli enti locali non assumono più. E tutto si riduce come pubblico. E che cosa si aspetta da ora dal prefetto? Aspetta che venga convocato e finalmente, anche alla presenza dei commercianti che devono partecipare, si discuta di questo argomento, si discuta della vita economica di Sala Consilina.